Siamo con Giorgia Monti, responsabile di Greenpeace Italia, una campagna contro le trivellazioni. Oggi a Marsala avete anche incontrato il sindaco, come è andato questo incontro? Direi che è andato benissimo perché il sindaco è venuto con noi alle Saline, che sono un simbolo di questa città, uno di quei tesori della costa da tutelare proprio da questa corsa all'oro nero. Ebbene anche il sindaco di Marsala ha firmato il nostro appello al Ministero dell'Ambiente per dire no alle trivelle e per chiedere di tutelare questo mare stupendo. Il vostro messaggio per tutti quelli che ci stanno ascoltando, in sintesi come si può riassumere la vostra battaglia? La nostra battaglia è quella di dire che perforare in mare per cercare petrolio è troppo rischioso e non lo è solo per l'ambiente ma lo è anche per il benessere delle comunità e la loro economia. Quindi tutti i siciliani della costa e prima di tutto i loro rappresentanti sindaci dovrebbero unirsi a questa battaglia per dire no alle trivelle e sì alla tutela del mare. Un mare che è il nostro oro blu e che dobbiamo proteggere. Grazie. 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 Grazie.